Vieni, dai baciare. Maio! Maio! Guarda io cosa ho fatto ripeto! Eh, ho capito! Un attimino! Caro Babbo Carlo, sei speciale e ti adoro. E ti stimo e ti stimo. Ti voglio bene, buon Natale. Questo è di chi, eh? Io. Awww. Awww. Senti carini. Allora apri, apri! Scarta la carta! Scarta la carta! Scarta la carta! Scarta la carta! Awww. Awww. Madonna, Madonna, che regalo, che regalo. Sempre, sempre vera picca. Oh, no, no, no. Ah, la pelle, vera pelle. Non c'hai una soffia questa. No, no, questa è vera. È da partire tutta la famiglia. Grazie, grazie. E questo l'ho fatto io, sono andata da sola. Bene, brava. E guarda cosa ti hai fatto a Sofia? L'ho fatto io, Carlo. Questo è il tuo dritto. Bu, Giardi. Bu, Giardi. Bu, Giardi. Questo l'ho fatto io. Me lo sono comprato io. Non lo posso dire, lo dico. Sasa, scarta la carta! Scarta la carta! Scarta la carta! Uuuuuh. E ora poi... Guarda, guarda così dentro. Così, mamma, è così. Apriamo? Scarto io! Scarto io! Grazie.